Un, due, tre, quattro, nananana, 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 il potro tre rotto, io guido la pecar, un tre rotto da piaggio, la pecar della piaggio, mi sento a quattro al mattino, mi alzo alle quattro del mattino, e qualche volta pure e quattro a dieci, a volte mi sveglio più tardi, e poi vado al mercato, e magari a lunedì e faccio il carico di ricommeri. L'altro giorno a Casor, l'altro ieri a Casor, vicino Napoli, se è schiettata una rotta, ho forato un pneumatico, perché la strada fa schifo, perché il fondo stradale non è dei migliori, e si è boccato altre cose, e si è ripartato la pecar, e sono caduto tutte le melone, e sono caduti tutti i cocommeri, e mi sono caduto sotto, e ho avuto molta, molta, molta paura, e tutte le macchine che passavano, e tutte le auto che transitavano per Casoria. Io non ho finito dopo il melone, finivano i miei cocommeri, e nessuno si fermava, perché a me è successo, e nessuno mi scorriva, e qualcuno si fotteva pure il melone, e qualcuno se ne approfittava, e io alluccavo a tirare fuori in due o tre cose, io gli dava aiuto, e la gente si metteva nelle melone, in dei bagagli di macchina e se ne fuglievano. La ultima è una! E questo si unico, èтраЭто 있다는 chi si hanno trovato o tre cose, se sì sappiamo siete due a zwei, altre gente si ha avuto, è di dunsi si r Bienenzi elementi e continuano aychidrati? E' questa? E abbiamo ci sache questa? E questa? La cosa? Non bu Γιαola nascitavo E questa, non buiele? E2020? E il necesità, ci sono qua iier çECTChami. e ora mi porto il stampello e ora sono bloccato in ospedale, ma se c'è tutto il pallone, ma se trovo l'autore dei miei cocomeri, mi faccio anche poche cose, mi faccio restituire le bucce e i semi, la gente fanno tanto i signori, la gente crede di essere per bene, e posso voto nei maluun!